Sono Alba Mazzotta, vengo da Montaltrufugo, avevo già incontrato Mimmo Lucano a Cosenza ma non c'era bisogno di incontrarlo di persona per capire quanto sia importante la tua persona ma soprattutto quello che ha fatto e quello che sta facendo. Io sono avvocato Mimmo, se hai bisogno di me disponi pure. Volevo innanzitutto ringraziarlo per l'esperienza forte che ho vissuto. È la prima volta che sono venuta a Riace, lo dico con rammarico e con grande senso di colpa per non essere stata più sveglia e più sensibile a venire a visitare di persone, a vedere quello che stai facendo. Non solo dal punto di vista dell'accoglienza, io devo farti i complimenti anche come amministratore perché questo è un piccolo borgo tenuto meravigliosamente bene e di questi tempi essere efficienti anche come amministratori della cosa pubblica non è cosa da poco. Quindi mi complimento con te. Mi complimento naturalmente anche con Pietro Melia ma anche con il dottor Lavorato mi ha davvero commosso per le cose che ha detto ma volevo ripercorrere un passaggio di ciò che hai detto il presidente Oliverio è qui oggi perché il presidente Oliverio sa toccare, ha toccato la mia coscienza ebbene questa è una società liquida, non so chi di voi ha visto ieri sera il programma condotto da Dario Brunori un nostro conterraneo molto bravo che ha esordito proprio evocando diciamo e riprendendo questa teoria della società liquida di Balmari qualcuno molto egregiamente prima di me ha parlato di sinistra, ha parlato di partiti, ha parlato di sigle qui c'è da fare soltanto una scelta tra la verità e la finzione tra chi fa politica perché la fa veramente e chi finge di volerla fare tra chi amministra veramente e chi finge di amministrare tra chi si dichiara fintamente antirazzista e chi invece antirazzista lo è nel profondo tra chi veramente appartiene alla sinistra perché è nella coscienza la sinistra la sinistra non è più nelle bandiere, non è più nelle sigle ma è nella nostra coscienza è arrivato il momento di dirle queste cose, di dichiararle queste cose di metterci la faccia anche sulla scelta di chi ci deve rappresentare oggi e nel futuro qui oggi ci sono dei grandi assenti, dei grandissimi assenti autoregoli alcuni dei quali appartengono alle forze del rinnovamento che il 4 marzo hanno spazzato via decenni di valori decenni di valori, qui oggi sono assenti, probabilmente non è un caso Mimmo, qui ci torneremo naturalmente e ci torneremo perché ci sarai tu accolgo e condivido due inviti quello di, e chiedo anche io da cittadina, mi associo alla richiesta del consiglio comunale del consiglio regionale, chiedo scusa, presidente Oliverio ognuno deve dichiarare da che parte sta, lo trovo assolutamente legittimo e poi se è necessario e sarà necessario Mimmo, credo che sarà necessario spostiamoci da Riace, possiamo andare a Roma, possiamo andare a Roma siamo pronti per andare a Roma e starti a fianco, grazie